ciao io vladimiro qui casa zia pina mattina abbastanza presto ma non si sveglia tanto presto a che ora ti svegli zia pina alle otto zia pina vuole imitare vladimiro perché pensa di essere grande attrice però in russia noi studiare teatro seriamente grandi cosa hai preparato qui colazione le medicine e le pette biscottate questa nevasetto come si chiama di marmellata prugne no albico zia pina già impaperata non è poi grande attrice no no